Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con ciascuno di voi. Buonasera, benvenuti a questa Eucaristia che celebriamo con piacere in questo venerdì dell'Ottavario e naturalmente ringraziamo il Signore per tutti quei barlumi di bellezza, di bontà che ci fa vivere. Evidentemente chiediamo forza per le nostre prove e se abbiamo commesso qualche peccato, prima di iniziare ci riconosciamo bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli Angeli Santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore e pietà, Cristo pietà, Signore e pietà, Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore e Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nel mistero pasquale hai offerto all'umanità il patto della riconciliazione, donaci di testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, un solo Dio, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello Storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti perdoti. Fatteli comparire davanti a loro, li interrogavano. Con quale potere, o in nome di chi, avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Costui vi sta innanzi, sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che scartata da voi costruttori è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che Egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno creato, fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, Figliuoli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora, disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste perché era spogliato e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso orora. allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci e benché fossero tanti la rete non si spezzò. Gesù disse loro venite a mangiare e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei perché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Parola del Signore e questo è un bel racconto la terza risurrezione di Gesù. I discepoli sono a casa loro nel Vangelo di Giovanni e sono lì intimoriti forse e cosa succede? succede che sono a disagio succede che sono tristi e magari anche addolorati erano un bel gruppetto e cosa fa Simon Pietro? Dice loro che lui andava a fare quello che sapeva fare e gli dice vado a pescare e quello che sapeva fare prima di incontrare Gesù anche noi quando viviamo delle crisi la prima cosa nelle nostre esistenze è la prima cosa che facciamo è rifare o fare qualche cosa che già conoscevamo Pietro lo fa anche loro anche gli altri dice veniamo anche noi con te non lo lasciano solo non si lasciano soli anche qui c'è una sapienza vitale e profonda e vanno sulla barca non prendono niente tutta la notte e non prendono niente quando era già l'alba non è vero Gesù si presenta sulla spiaggia e domanda dice figlioli non avete nulla da mangiare non avevano preso niente gli dicono no e allora Gesù dice gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete la gettano e trovano un'enorme quantità di pesci e qui c'è un'altra frase che mi piace sottolineare quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro e il Signore non l'hanno riconosciuto eh perché non è facile ma quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro guarda che è il Signore vedete è fondamentale sentire l'amore per riconoscere Gesù è tremendo chi non ama non sa riconoscere Gesù chi non ha il cuore eh diciamo così avvolto dall'amore non sa riconoscere Gesù è una cosa importante naturalmente è importante che quando Pietro sente il discepolo che Gesù amava dire che era il Signore si mette una veste per coprirsi perché era nudo si getta in acqua e va da lui il Vangelo non ci racconta niente dell'incontro tra Pietro e Gesù ma proprio nulla se non che Gesù ha già pronto il fuoco con un po' di pesce un po' di pane e poi quando loro arrivano dice portate un po' del pesce che avete preso orora e qui si incarica Simon Pietro di andare e portare qualche pezzo e poi c'è un'altra frase di Gesù che è fondamentale venite a mangiare vedete noi spesso abbiamo la sensazione di bastare a noi stessi abbiamo la sensazione che il nostro spirito è pieno noi siamo cristiani andiamo a messa preghiamo e invece Gesù sa che abbiamo bisogno di rinfocillarci venite a mangiare non è solo il pesce e il pane ma è il convitto e la condivisione e l'eucaristia venite a mangiare naturalmente nessuno gli domandava chi sei poiché sapevano bene che era il Signore e perché il Signore si muove si muove in certi modi eh allora Gesù cosa fa si avvicina prende il pane fa la benedizione lo diede loro e così pure il pezzo e ricreano le loro forze interiori rigettano la tristezza e fanno compiono un passo in più nel cammino per comprendere eh che cosa Gesù adesso chiedeva loro vorrei che anche noi facessimo questo passo e chiedessimo in questa Eucaristia di nutrirci di nutrirci di Gesù e di nutrire il nostro spirito anche con un sogno con un progetto eh con con la volontà di vivere con Cristo e ed essere anche noi risuscitati come lui sia lodato Gesù Cristo con Grazie. Benedetto sei tu, Signore e Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore e Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Dalle Tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del Suo nome per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Nella tua bontà, oh Signore, porta a compimento in noi questo santo scambio di doni pasquali, perché dall'amore per le realtà terrene siamo condotti al desiderio della realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il Signore, è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. E' Lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, 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 santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, 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 osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene, benedetto colui che viene, nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi amici e disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati». Fate questo in memoria di me. Mistero della fede «Annunciamo la Tua morte, Signore. Proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta». Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. «Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vittorio, i presbiteri e i diaconi e tutto il popolo da te redento». «Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Tuo volto». «Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la Tua lode e la Tua gloria». «Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli». «Anche noi ci lasciamo condurre da quest'amore che Gesù ci ha mostrato amando gli Apostoli e allora con fiducia, speranza, preghiamo proprio come Gesù ci ha insegnato». «Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo o così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male». «Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donaci unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli e la pace del Signore sia sempre con ciascuno di voi». «Ecco, e noi ci scambiamo il dono della pace con un saluto, voi invece a casa datevi un abbraccio fraterno». «Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi». «Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi». «Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace». «Per seppio corpore i sannini Tui, domini Gesù Cristo, non me». «Ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, che togli i peccati del mondo». «Beati gli invitati alla cena del Signore». «O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato». «Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna». «Amen». la vita e la terra e la terra. «I ammora di Dio, che togli i peccati del mondo». «Per seppio corpore il mondo, «Dio». «Ti che togli i peccati del mondo», «So, non c'è ne un caso». «Pia di niente». «Siglio è capito». «Il Wheat!» «Pia di rinno di Dio». Grazie. Mi facessi sentire la grandezza della comunione con te. Fammi sentire la bellezza di stare con te. Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, e avremo la pace. Resta con noi, non ci lasciate, la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lasciate, per le vie del mondo, Signore. Grazie. 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 custodisci con instancabile amore o padre il popolo che hai salvato perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione egli vive e regna nei secoli dei secoli il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo andiamo in pace, alleluia, alleluia prima di congedarci però salutiamo dicendo salve o Regina, Madre di misericordia vita, dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo noi esuli figli di Eva a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime orso dunque, Avvocata nostra rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno o clemente, o pia, o dolce vergine Maria a tutti e a ciascuno buona serata Gesù, il frutto benedetto del tuo seno grazie